L'ospedale specializzato Sveti-Vit, come altri principali centri europei per il glaucoma, tratta questo problema secondo le esigenze dell'oftalmologia contemporanea, con i nomi famosi dell'oftalmologia europea. Qui si promuovono nuovi e raffinati approcci chirurgici, come la cosiddetta chirurgia non penetrante, con la quale si superano i rischi di tecniche chirurgiche obsolete e inadeguate. L'ospedale specializzato Sveti-Vit 011-328-3737